In collaborazione con Faresing, slogan, vendita e riparazione con il massimo della qualità e professionalità, lo scrigno, cortesia, simpatia e creatività sono le nostre migliori alleate e i nostri clienti sono la nostra forza, officine Martini al servizio dei clienti Scania dal 1976, tubo Tobi, impianti termoidraulici, infinite soluzioni personalizzate per gli impianti della tua casa, della tua azienda e per l'ente pubblico, abbigliamento uomo-donna, convenienza e qualità, punto vendita in via sole 9-11 a Belvedere di Tetzel, Blue Bar, il punto ritrovo dove accoglienza e simpatia ti accompagnano dalle colazioni agli aperitivi a Tezze sul Brenta nel distributore Costantini, freschezza, qualità, convenienza, Euro Spesa, il tuo supermercato a Tezze sul Brenta, ristorante da Mirella, un luogo accogliente ed elegante con piatti della tradizione e prodotti di prima scelta a Belvedere di Tezze, affidati a chi con passione ascolta e realizza i tuoi desideri, Salone New Niusca a Cartigliano Pasticceria Palladini, bar, caffetteria, cake design, pasticceria tradizionale ed americana per dare intense emozioni di gusti a Belvedere di Tezze Assaggiate! Che buono! Che formaggio è? È il Collina Veneta, è prodotto solo dal Caseificio San Rocco e ha vinto il premio di miglior formaggio d'Italia Eh sì, gusto unico e inconfondibile Proprio buono! Sì, è un vero campione! Il Collina Veneta lo trovi solo a Tezze sul Brenta, Belvedere di Tezze sul Brenta e Caldonio Caseificio San Rocco, da sempre la garanzia di mangiare italiano Ben ritrovati a Periscopio il consueto appuntamento di Rete Veneta Anche questa settimana le nostre telecamere si sono mosse alla ricerca dell'evento particolare Un evento di festa Mi trovo a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, un paese nel cuore del Veneto a cavallo con il fiume Brenta Qui grandi festeggiamenti È la festa del patrono, festa di San Rocco Le iniziative sono tantissime e io vado a vederle tutte E voi? Voi venite con me! 16 agosto 2017 San Rocco Una data importante per Tezze sul Brenta che ne è il patrono Ma una data importante anche per la costituzione di questa azienda Il Caseificio San Rocco Mi sono assieme al signor Sebastiano, presidente del Caseificio San Rocco Salve Sebastiano! Salve! Allora, la vostra azienda è un'azienda storica con una grande tradizione, 50 anni, vero? Sì, 50 anni di storia Questa è la sala produzione dell'Asiago, principalmente L'Asiago e poi? Si mette in pressa il Collina Veneta che è stato il miglior formaggio d'Italia Quindi un formaggio premiato? Pluripremiato Questa è la sala produzione dove facciamo il Grana Padano e il Collina Veneta In questo momento stanno estraendo la Cagliata dove poi verrà spessetata e appunto viene fatto il Collina Veneta E voi qui adoperate esclusivamente il latte dei vostri consorziati? Sono 20 associati, tutti della zona, tutti in filiera controllata Quindi è esclusivamente latte nel raggio massimo di 25 km Noi abbiamo puntato sempre sulla qualità e si fanno controlli anche più del dovuto Adesso stanno scaricando la Cagliata dell'Asiago Che poi verrà tagliata e poi messa negli stampi e nelle presse Questo è il nostro tesoro, pensa che di media si parte dai 20 mesi 20-27 mesi va venduto il nostro Grana C'è la soddisfazione di avere un gran prodotto Qua il presidente Zaia appunto sta tagliando la forma sorella gemella di quella che ha vinto il miglior formaggio d'Italia Eccoci qua Sebastiano sul tuo punto vendita Abbiamo circa 23-24 tipi di formaggio Dal fresco allo stagionato Allora i vostri punti vendita sono due Tese sul Brenta appunto, via Trecase 65 E l'altro è a Belvedere di Tese sul Brenta, lungo la Statale, via Nazionale numero 49 Grazie, vi aspettiamo Sono qui con Stefania Lago, ciao Stefania È l'organizzatrice di questa meravigliosa sfilata, una sfilata particolare Tezze Crea Moda Sfilata particolare perché? Perché questa sfilata è stata pensata dal comitato festeggiamenti Per dar valore, per ricordare queste donne che una volta lavoravano soltanto i campi, portavano avanti la famiglia con tanta fatica Ma queste quattro aziende che noi ricordiamo questa sera con la sfilata hanno contribuito a dare importanza, a dare Certo, a dare un valore anche alla donna Un valore alla donna Un valore Appunto che prima lavorava a campi e in casa Diciamo che l'hanno portata a un'altra dimensione A un'altra dimensione Allora qui abbiamo delle modelle che sono delle abitanti del paese, delle volontarie Sono delle ragazze meravigliose che si sono prestate a fare tanti provini Un grande lavoro Un grandissimo lavoro che portiamo avanti da diversi mesi Stefania, quattro stand delle quattro ditte Delle quattro ditte Questa fa? Questa è la Belmar che fanno abbigliamento donna, elegante, classico Certo Poi Questa è Ates, che è maglieria, molto bella, molto rinomata Sì Vecchio Ponte che fa abbigliamento sportivo, tutte da sci, eccetera E infine E questo qua è Gino Sartore che fa capi, abiti da uomo, meravigliosi Gino Sartore che fa capi, abiti da uomo, meravigliosi Fare Zing, slogan, vendita e riparazione Con il massimo della qualità e professionalità Lo scrigno, cortesia, simpatia e creatività sono le nostre migliori alleate e i nostri clienti sono la nostra forza Officine Martini al servizio dei clienti Scania dal 1976 Tubo Tobi Impianti termoidraulici, infinite soluzioni personalizzate per gli impianti della tua casa, della tua azienda e per l'ente pubblico Abbigliamento uomo-donna, convenienza e qualità, punto vendita in via sole 9-11 a Belvedere di Tetzel Blue Bar, il punto ritrovo dove accoglienza e simpatia ti accompagnano dalle colazioni agli aperitivi A Tezze sul Brenta, nel distributore Costantino Freschezza, qualità, convenienza Eurospesa, il tuo supermercato a Tezze sul Brenta Ristorante da Mirella, un luogo accogliente ed elegante con piatti della tradizione e prodotti di prima scelta a Belvedere di Tezze Affidati a chi con passione ascolta e realizza i tuoi desideri Salone New Niusca a Cartigliano Pasticceria Palladini, bar, caffetteria, cake design, pasticceria tradizionale ed americana Per dare intense emozioni di gusti a Belvedere di Tezze Assaggiate Che buono, che formaggio è? È il Collina Veneta, è prodotto solo dal caseificio San Rocco e ha vinto il premio di miglior formaggio d'Italia Eh sì, gusto unico e inconfondibile Proprio buono, sì, è un vero campione Il Collina Veneta lo trovi solo a Tezze sul Brenta, Belvedere di Tezze sul Brenta e Caldonio Caseificio San Rocco, da sempre la garanzia di mangiare italiano Tezze crea moda, ma non solo A Tezze tante attività, tra queste anche questo grande supermercato Eurospesa Dove ogni famiglia, ogni persona può trovare veramente tutto quello che cerca E dir la verità ne approfitto anch'io per fare un po' di spesa Flavio, il direttore di questo meraviglioso supermercato Sono qui per fare la spesa, mi puoi consigliare? Certo, abbiamo un ampio assortimento di merce, di fresca che arriva ogni giorno E soprattutto di qualità Di qualità Facciamo un po' di verdure disintossicanti, finocchio, va bene, zucchine Allora Flavio, guarda, mi metti un altro peperone che sono buoni? Certo, sono eccezionali per la riveliata questi qua Dopo la frutta e verdura abbiamo il banco latticini E cosa abbiamo nella tavola calda? Abbiamo pollo, posticine Posticine, sassicce, tutti i tipi di carne preparati, freschi, fatte questa mattina Ogni reparto ha la sua offerta? Certo, noi facciamo le offerte che durano 15 giorni e servono per incontentare il cliente Io al mattino bevo sempre l'acqua essenziale, però faccio fatica a trovarla Noi ce l'abbiamo qua Eccola qua, voi avete la famosa fonte essenziale Quando qualcuno richiede una cosa in particolare che magari non riesce a trovare negli altri supermercati Tu gliela procuri Certo Siamo giunti in cassa, qui abbiamo tre comodissime casse In modo che non facciamo la fila, però un altro tuo punto di forza è il parcheggio fuori Il parcheggio è ampissimo, la spesa è velocissima Quindi qui per fare la spesa ci mettiamo metà tempo Metà tempo Guardi è un supermercato per me questo Va bene, l'aspetto Ma penso anche per tutte le donne Ma certo Fabio io ti ringrazio, grazie sei stato gentilissimo Ciao Fabio Cerantola, presidente del comitato festeggiamenti San Rocco Ciao Fabio Ciao a tutti Allora, grande festa, parlavamo di giovani, di staff E qui siamo nel primo tendone, perché ce ne sono ben tre Dedicato ai giovani, vero? Esattamente, è una proposta che abbiamo coltivato negli anni Abbiamo fatto crescere, ci abbiamo creduto E qui alla sera si festeggia sempre C'è una proposta vini, una proposta panini con birre Poi c'è il complessino che suona E a una certa ora si balla Fabio, questo il cuore della festa Da stand gastronomico d'eccellenza Perché la gente qua viene anche da lontano Per mangiare soprattutto cosa? Il pesce Per mangiare il pesce Anche se non è una terra di pesce No, non siamo terra di pesce Abbiamo il Brenta, ma il pesce che cuciniamo non arriva dal Brenta Ci siamo specializzati, lo curiamo in una certa maniera E quindi il piatto risulta molto buono L'anno scorso 12.000 piatti 12.000 piatti, siamo in continua crescita Ci diamo da fare, il lavoro è tanto Ma noi non abbiamo paura di niente Questa è una sagra particolare La prima eco-sagra del Veneto, vero? Assolutamente Siamo stati i primi a utilizzare in una sagra Stoviglie lavabili Ci siamo attrezzati, abbiamo comprato delle stoviglie nostre E abbiamo montato un reparto dedicato per il lavaggio E quindi ogni stoviglia viene lavata Viene lavata e poi riutilizzata Con un grande risparmio per l'ambiente Assolutamente eco-sostenibile E poi anche i rifiuti, vero? Anche i rifiuti, assolutamente Raccolta differenziata innanzitutto Abbiamo visto dei lavori strepitosi alla sfilata Tezze Crea Moda Della nostra pettinatrice E lavori su modelli e modelle Io però ve la voglio presentare Bene bene, ciao Niusca Ciao, piacere Allora, Niusca, titolare del salone New Niusca Di Cartigliano, in provincia di Vicenza Questo è il tuo mondo, vero Niusca? È la mia vita Punto di forza di questo salone Allora, il mio punto di forza è lo staff E ho cercato uno staff che ci completasse In modo da soddisfare tutte le esigenze Delle nostre clienti Sia femminili che maschili E ho trovato persone che amassero il loro lavoro come lo amo io Qui facciamo tagli Facciamo delle bellissime acconciature Facciamo dei bellissimi colori Ma facciamo anche dell'altro, vero? Sì, abbiamo anche un reparto estetico Dove l'estetista Tatiana È molto forte anche nell'epilazione dolce Così la chiamiamo Che è l'epilazione con la pasta di zucchero Un salone, abbiamo detto, completo Una persona può richiederci praticamente tutto Esattamente Grazie al nostro staff completo Riusciamo a soddisfare tutta la clientela Sia femminile che maschile Anche nell'estetica Gnusca, il tuo salone è dove? È a Cartigliano, in via Ferrazzi, numero 1 Se volete visitare anche la nostra pagina Facebook Salone New Gnusca Oppure Instagram Salone-Gnusca Grazie Gnusca Grazie a voi In collaborazione con Faresing Slogan, vendita e riparazione Con il massimo della qualità e professionalità Lo scrigno, cortesia, simpatia e creatività Sono le nostre migliori alleate E i nostri clienti sono la nostra forza Officine Martini Al servizio dei clienti Scania Dal 1976 Tubo Tobi Impianti termoidraulici Infinite soluzioni personalizzate Per gli impianti della tua casa Della tua azienda E per l'ente pubblico Abbigliamento uomo-donna Convenienza e qualità Punto vendita in via Sole 9-11 A Belvedere di Tetzel Blue Bar Il punto ritrovo dove accoglienza e simpatia Ti accompagnano dalle colazioni agli aperitivi A Tezze sul Brenta Nel distributore Costantini Freschezza, qualità, convenienza Euro Spesa Il tuo supermercato a Tezze sul Brenta Ristorante da Mirella Un luogo accogliente ed elegante Con piatti della tradizione E prodotti di prima scelta A Belvedere di Tezze Affidati a chi con passione Ascolta e realizza i tuoi desideri Salone New Niusca A Cartigliano Pasticceria Palladini Bar, caffetteria, cake design Pasticceria tradizionale ed americana Per dare intense emozioni di gusti A Belvedere di Tezze Assaggiate Che buono Che formaggio è? È il Collina Veneta È prodotto solo dal Caseificio San Rocco E ha vinto il premio di miglior formaggio d'Italia Eh sì Gusto unico e inconfondibile Proprio buono Sì È un vero campione Il Collina Veneta Lo trovi solo a Tezze sul Brenta Belvedere di Tezze sul Brenta E Caldonio Caseificio San Rocco Da sempre la garanzia di mangiare italiano Grazie a tutti